Musica Ci troviamo qui perché vogliamo intervistare Samuel che si è reso protagonista di un'azione veramente onesta qualche giorno fa a Piazza Armerina, esattamente sabato mattina, quando ha ritrovato per terra una mazzetta di oltre 4.000 euro contrariamente a quello che molte persone avrebbero fatto, fatto la portata ai carabinieri dichiarando di aver trovato questo denaro per terra, quindi vogliamo chiedergli il perché di questo suo gesto Samuel, so, what happened that morning? Sabato mattina per strada ho trovato il denaro e ho pensato che nel mio paese, in Nigeria, quando trovi una cosa non tua la porti in chiesa oppure alla stazione di polizia più vicina e allora ho pensato di fare la stessa cosa anche qui perché ho pensato che forse questi soldi appartenevano a qualcuno che ne aveva bisogno davvero. Già una volta, quando lavoravo al cimitero di Piazza Armerina aiutando un amico nel suo banchetto dei fiori, ho trovato un braccialetto che era stato smarrito l'ho trovato a terra e ho subito chiamato il mio amico Salvatore per restituirlo quindi questa non era la prima volta che Samuel si rendeva protagonista di un gesto comunque di onestà perché appunto ci stava dicendo che aveva già restituito ad una signora un braccialetto che aveva smarrito La storia di Samuel è una storia, come per tanti immigrati, molto difficile perché è giunto in Italia con l'ondata del 2011, ha fatto varie esperienze di accoglienza è anche stato a Napoli per diversi mesi alla ricerca di un lavoro nei campi come agricoltore per la raccolta dei pomodori, però ci raccontava che quei giorni sono stati molto duri per lui perché lo stipendio era bassissimo e non era riuscito neanche a sopravvivere quindi si è visto costretto a ritornare a Piazza Armerina adesso in attesa del rinnovo del suo permesso di soggiorno chiediamogli anche adesso della sua famiglia che è rimasta in Nigeria In Nigeria ho tre bambine stupende, è una moglie meravigliosa non le vedo da ormai cinque anni, praticamente da quando sono andato in Libia per iniziare il mio viaggio e mi piacerebbe tantissimo rivederle presto vorrei che venissero qui, con me, ma non ho un lavoro l'ho cercato nelle grandi città del nord Italia sono stato a Milano, a Torino, ma non l'ho trovato neanche lì poi a Foggia ho lavorato un po' nei campi di pomodoro però guadagnavo solo per nutrirmi allora ho provato ad andare all'estero sono stato anche in Germania per un breve periodo di tempo però lì, senza un documento valido, non c'era nessuna opportunità lavorativa e quindi alla fine ho deciso di tornare qui dove ho alcuni amici che spero possano aiutarmi a rinnovare presto il mio permesso di soggiorno che è ormai in scadenza Lui è venuto ad Aidone dove si sta svolgendo un importante convegno che fa un bilancio sui primi sei mesi dello SPRAR il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e oggi appunto alla presenza del Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Gisana del Prefetto della provincia di Enna, Sua Eccellenza il Dottor Guida e altri illustri ospiti venuti appunto per l'occasione il presidente dell'Associazione Don Bosco 2000, l'architetto Agostino Sella uno dei principali centri di accoglienza di Piazza Armerina e Aidone consegnerà a Samuel una targa proprio per riconoscere l'onestà di questo gesto che è veramente molto importante